ciao ragazzi io sono davide benvenuti sul mio canale youtube oggi vi voglio parlare della assassin marchiata citro un'antenna dipolo made in italy pensata apposta per sopravvivere ai crash più assurdi ormai è da un po di giorni che la sto testando quindi adesso ci trasferiamo qui sul mio banco dove ve la faccio vedere un po più da vicino la vediamo nel dettaglio poi vi farò vedere qualche dvr e vi darò i miei consigli finali state qui con me anche perché giravoce che con questo allettone pare che la vostra skill di volo aumenti di almeno il 20 per cento eccola qui ragazzi la assassin marchiata citro la dipolo ultra resistente come vedete è una dipolo che è ospitata da questo supporto in tpu e perché diciamo che è ultra resistente ai crash ragazzi perché guardate grazie a questo supporto in tpu che la ospita la potete praticamente contorcere in tutti i sensi stropicciare sbattere potete fargli tutto quello che volete e lei ritorna sempre in perfetta forma il design molto molto bello perché c'ha questo alettone che montato sui vostri quad ve lo faccio vedere a breve gli dà una linea veramente cattiva quindi molto bello tra il centro dello standoff e l'altro ci sono tre centimetri ma può essere adattato vedete stringendolo come volete e potete guadagnare anche più o meno un altro mezzo centimetro se l'andate ad allargare quindi arrivandovi a correre distanze tra i due standoff anche fino a tre centimetri e mezzo potete ordinarla con diversi attacchi c'è sia mmcx sia ufl non perdete altri dbi ai da connettore vedi pigtail perché l'antenna è connessa direttamente alla vostra videotrasmittente colore c'è solamente nero non vi dovete preoccupare della polarità perché questa essendo una di polo può essere utilizzata sia su sistemi analogici che su sistemi digitali ovviamente tenete presente che essendo una di polo la ottimizzate al massimo come qualità video se andate ad utilizzare delle antenne lineari se montate delle antenne circolari sui vostri occhiali che siano patch o siano omnidirezionali ovviamente il segnale video non vi renderà mai come un'antenna omnidirezionale sul vostro quad ma ragazzi questa è un'antenna il cui scopo principale è la comodità perché è piccola il design perché devo dire che è molto accattivante e ovviamente come vi dicevo prima la resistenza il montaggio è veramente molto facile perché ragazzi vi beccate i vostri due stand off qui dietro ok e la montate ovviamente a pressione eccolo là vedete è molto molto carina perché il vostro drone sembra essersi trasformato in un'automobile da formula 1 e un'altra cosa che vi vorrei far notare che se guardate il filo adesso io l'ho messo qui ok vedete che se faccio movimenti di questo tipo qui ok il filo non si muove questa è molto buona questa cosa perché vuol dire che effettivamente non andrò mai a rovinare il filo né in questo punto né nel punto del connettore l'unica cosa che dovete stare attenti è la torsione perché vedete la torsione ovviamente viene trasmessa al connettore quindi dovete sempre tenere bene fisso il connettore alla vostra vtx oppure avere dei sistemi vedi ad esempio la caddx vista che c'ha il supportino qui che tiene tutto bello fermo altrimenti ci sono dei metodi come quello di utilizzare dei termorestringenti o altri sistemi come delle particolari colle che vanno a sigillare bene il connettore alla vtx e qui ragazzi potete vedere com'è il risultato con la top plate assicurata vedete comunque è veramente molto molto carina dal banco è tutto ragazzi adesso vi faccio vedere un po di dvr di test che ho fatto in dei bando dove il nostro segnale video deve scontrarsi con le mura di cemento armato qui state vedendo il dvr registrato dalla mia caddx vista che monta appunto la assassins di polo marchiata citro vedete sto testando questo bando che è pieno di mura di cemento armato ed è la prima lipo quindi sto cercando di capire dove prende e dove soffre questa tipologia di antenna qui quindi vedete mi sto spingendo un po più la vedete visto sono partito dal piano di sopra sto raggiungendo l'altra estremità del bando qui il segnale sta calando ma non mi lagga quindi sto memorizzando che fino a qui bene o male riesco a volare in tranquillità vedete faccio un po di di prove non mi sta laggando ho tentato uno split s tutto ok finora qui non ho problemi adesso sto provando di nuovo qualche linea qui sto andando praticamente nella parte sottostante tra le mura di cemento armato e qui c'ho una bella laggata quindi ho individuato un punto in cui il segnale video soffre vedete lo sto ritestando ed effettivamente il segnale si riduce tantissimo e vedo veramente delle laggate assurde quindi ho capito bene o male che lì ho dei problemi adesso sto cercando di andare dalla parte esterna dell'edificio andando piano piano proprio nel punto in cui il segnale ha sofferto qui provo ad entrare in questa stanza che si trova proprio adiacente a dove sto io vedete un pochettino ci sono i pixel però comunque riesco a pilotare e questo è il punto diciamo dark la dark zone qui vedete mi sto avvicinando al punto dove mi ha laggato ed effettivamente eccolo lì che di nuovo mi lagga non so se vedete che il video va a scatti riesco comunque ad entrare con un po di difficoltà ma ho individuato il punto adesso qui invece monto una omnidirezionale un altro quad sto andando praticamente lì nello stesso punto che abbiamo visto prima e vedete che comunque riesco a pilotare cioè il segnale si abbassa vedo comunque che scendo a una tacca ma non mi lagga non mi pixella più di tanto vedete addirittura riesco a fare tutto il giro del palazzo quindi ovviamente questo è l'ottimale perché sto volando con un'antenna omnidirezionale e ciò delle omnidirezionali lhcp anche sugli occhiali quindi sistema perfetto mentre invece nel caso che avete visto prima con l'assassin stavo volando con sempre delle lhcp sui miei occhiali ma ovviamente sul quad c'era l'assassin che è di polo quindi non è proprio super ottimale come test qui siamo tornati di nuovo con a bordo l'assassin di polo e la cosa bella ragazzi che una volta che avete identificato dove riuscite a volare con confidenza e dove riuscite a gestire i pixeloni a quel punto parte il divertimento perché veramente no fear no paura di rompere perché ragazzi ho fatto bei botti con questa antenna e ne è sempre uscita viva poi se ci abbinate pure una o due antenne lineari allora ragazzi riuscite anche a fare di più di quello che ho fatto io in questi test qui per chi è pensata questa antenna ragazzi in base alla mia esperienza e per quello che ho potuto vedere la consiglio sicuramente a tutti quei piloti che amano il freestyle che stanno imparando a volare stanno imparando nuovi trick quindi già sanno che è possibile che si schianteranno spesso per terra quindi facendo un buon investimento iniziale perché adesso questa antenna la trovate intorno ai 29 euro e 90 30 euro circa compratela qui sotto in descrizione perché vi lascio un coupon sconto ebbene facendo questo piccolo investimento finale ragazzi è difficile che la romperete se la rompete è sicuramente non per crash se è per crash non lo so ragazzi siete stati proprio maledetti dalla sfortuna ma se la rompete è perché o l'avete montata male non l'avete collegata bene al connettore oppure staccandola è possibile che la danneggiate quindi questo pezzetto qui va sempre trattato con molta delicatezza un altro possibile target sono piloti anche con media o tanta esperienza che magari vogliono approcciare un trick nuovo a volte nei trick più difficili quando si passa dal simulatore al campo ragazzi è possibile che ci si schianti vedi ad esempio il sottoscritto che quando ha imparato il matti flip ragazzi ho veramente devastato i sederoni dei miei quad e in particolare le antenne quindi sicuramente a tornare indietro ad avere un'antenna del genere sarei stato sicuro che almeno questa sarebbe sicuramente sopravvissuta detto questo se avete una configurazione sui vostri occhiali con antenne lineari sicuramente la ottimizzerete al massimo quindi riuscirete a trarre il meglio anche come qualità video da questa antenna qui se siete possessori di occhiali dji google v2 ancora meglio perché le antenne standard essendo di polo si abbinano abbastanza bene a questa tipologia di antenna qui non la consiglio sicuramente a tutti quei piloti che da una sola posizione vogliono farsi tutto quanto il bando oppure tutti coloro che vogliono tentare quelle linee estreme dove sicuramente una omnidirezionale renderà meglio bene è tutto per questo video ragazzi se volete andare in giro a dire a tutti quanti i vostri amici che avete un nuovo alettone aerodinamico sul vostro quad è arrivato il momento un salutone a tutti e come al solito divertitevi 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 e se poi fate i botti con questa non preoccupatevi più di tanto dai e a tutti